Buongiorno, oggi vogliamo vedere di introdurre una grandezza fisica che già dovremmo ricordare dagli anni passati, che è quella del flusso di un campo magnetico. Cominciamo a definire che cosa sarebbe questa grandezza, perché abbiamo bisogno di una grandezza del genere. Bene, il flusso regola l'efficacia di un campo vettoriale quando questo investe una superficie, cioè quando una superficie viene investita dall'aria, per esempio, si gonfia, fa da motore per una barca, e questo è quello che io ho scritto qua, per renderci conto. A seconda di come mettiamo la vela riceviamo una spinta più potente di un'altra. Allora, per fare questo dobbiamo rappresentare una superficie attraverso il vettore superficie. Eccolo qua. Come è fatto un vettore superficie? Beh, un vettore superficie è un vettore che è perpendicolare alla superficie, come in questo caso, ed è esteso, intenso, a un modulo uguale all'area di questa superficie. Quindi se la superficie è grande avremo un vettore molto lungo, se la superficie è piccola avremo un vettore più corto, ma sempre ad essa perpendicolare. Potremmo trovarci di fronte, anzi spesso ci troviamo di fronte, a superfici curve, pensiamo ad un lenzuolo che viene buttato dal balcone. Dividiamo quindi questa superficie in tante piccole superficie, molto piccole, che rappresentano una superficie anche loro attraverso un vettorino superficie. Come vediamo nella figura, io ho preso questa superficie curva, è un paraboloide, ho preso un pezzettino di questa superficie, lui avrà il suo vettore superficie. La superficie intera sarà rappresentata dalla somma di tante piccole superfici, piccoline, e quindi possiamo calcolare il flusso per ciascuna di queste e poi sommare. Se una superficie è immersa in un campo magnetico, il flusso come si definisce? Si definisce in questo modo, il prodotto scalare tra il vettore campo magnetico e il vettore superficie, così come rappresentato in questa figura. Il vettore superficie di quella superficie azzurra sarà diretto per così, immerso in un campo magnetico si crea un angolo particolare. Come si misurerà quindi il flusso di campo magnetico? Come un tesla, campo magnetico, per un metro quadrato, superficie. Daremo a questa unità di misura il nome Weber, ok? Ovviamente a seconda degli angoli potremmo avere un flusso zero, se l'angolo è di 90 gradi, potremmo averlo positivo nel caso in cui l'angolo è acuto, ma potremmo anche averlo negativo in caso che il coseno di un angolo ottuso è negativo. Quindi in alcuni casi, se sono così in accordo, quasi in accordo, non importa, avremo un flusso positivo, se sono in contrapposizione, uno va da una parte, uno va dall'altra, potremmo avere un flusso negativo. Questo ha delle ripercussioni, perché? Consideriamo il caso di una carica elettrica positiva e la racchiudiamo da una superficie chiusa. Tutte le linee di campo elettrico, ci ricordiamo, sono radiali ed vanno dalla carica verso l'esterno, quindi bucheranno questa superficie sempre uscendo dalla superficie, così come fa il vettore superficie, che è sempre uscente dalla superficie. Quindi avremo sempre un vettore uscente e un vettore uscente in ogni posto della nostra superficie. Saranno sempre paralleli i due vettori e se sono sempre paralleli il loro angolo è sempre zero. Questo cosa significa? Che avremo sempre il massimo, perché il coseno di zero è uguale a uno, avremo sempre il massimo flusso, che sarà sempre positivo, quindi sarà una somma di piccoli flussi che avrà un numero finale. Nel magnete le cose cambiano, perché se prendo una calamita e la racchiudo da una superficie chiusa, cosa succede? In alcuni casi qui abbiamo il campo magnetico uscente dal nord, come siamo abituati a vedere, e avremo la superficie, il vettore superficie uscente anche lui. In corrispondenza del sud avremo le linee di campo magnetico che entrano nella superficie e le linee di superficie, i vettori superficie che escono dalla superficie. Quindi avremo un angolo di 180 tra questo vettore e questo vettore. E se abbiamo un angolo di 180 il coseno vale meno uno. Se abbiamo un angolo zero il coseno vale più uno. Quindi avremo un contributo positivo in metà della sfera e un contributo negativo nell'altra metà. Se sommiamo tutto, otteniamo un bellissimo flusso uguale a zero. Ok? Otteniamo che il flusso del campo magnetico è uguale a zero. Si può fare anche una dimostrazione matematica, però preferisco che si apprezzi in questo modo. Il teorema di Gauss per il campo magnetico afferma che il flusso db attraverso una superficie chiusa vale sempre zero. Questo significa che non si può avere dentro la superficie un solo nord, perché se fosse un solo nord uscirebbero sempre le linee di campo. Noi dobbiamo sempre dire che fa zero e quindi avremo sempre un polo nord e anche un polo sud. Non esistono i monopoli magnetici. E questo vale sia per i magneti, ma vale anche per le spire di un filo conduttore percorso da corrente, una corrente I. Come sappiamo, mettiamo le dita della mano destra, eccetera, 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 e otteniamo una calamita se corre corrente. E questa calamita, per questa calamita, quando la racchiudiamo in una superficie chiusa, come in questo disegno, otterremo ancora che il flusso lungo una superficie chiusa, che racchiude una spira percorso da corrente, è zero. Mentre non era così nel caso del campo elettrico. Non faceva zero, ma il teorema di Gauss, se ricordiamo bene, ci diceva che era la divisione tra la somma delle cariche all'interno della superficie per la costante dielettrica del vuoto. Molto interessante. Buona giornata.